Malgrado l'emergenza e con tutte le cautele di rispetto delle norme sanitarie, il Comune di Breda di Piave ha commemorato il 4 novembre al Molino Sega, un appuntamento che si ripete ormai da 30 anni in questo sito storico sul Piave, avamposto della prima offensiva italiana dopo Caporetto nella Prima Guerra Mondiale. Un programma intenso svoltosi in collaborazione con l'Associazione d'Arme e con l'Istituto Comprensivo del Comune per celebrare la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. La cerimonia è stata aperta con l'alzabandiera a cui è seguita la benedizione e deposizione di una corona al monumento in onore ai caduti e agli interventi delle autorità. Tra questi, oltre al sindaco Moreno Rossetto, ha preso la parola Sofia Catapan, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, e Monsignor Angelo Santarossa, generale della Riserva, cittadino onorario del Comune di Breda di Piave. Seppur limitate le rappresentanze, la cerimonia è stata densa di significato e ha commosso tutti i partecipanti nel ricordo dei tanti giovani che oltre cento anni fa si sono immolati per difendere la patria e con riferimento anche alle emergenze che affrontano i ragazzi del terzo millennio che oggi combattono contro un nemico invisibile come il Covid-19. La commemorazione si è chiusa con due momenti ricchi di emozione. La consegna del tricolore all'istituto comprensivo da parte del cavaliere dottor Aldo Roma è il lancio di una corona dei fiori nel Piave. Se noi abbiamo la passione di ricordare questi anniversari è perché crediamo che dobbiamo aggrapparci alla storia, alla memoria, perché dobbiamo tramandare al mondo del domani ciò che è successo e non vogliamo pensare inutilmente in questi luoghi. Qui veni oltre trent'anni fa, qui al Molin della Sega, perché qui c'è la memoria di migliaia di giovani, diciannovenni, che hanno sacrificato la loro vita perché noi fossimo una nazione indipendente e libera. Conserviamo il ricordo di questi luoghi. È un sacrificio, alla mia età poi è un doppio sacrificio, ma credo che ne valga la pena perché i giovani hanno bisogno non di predicatori, ma di testimoni. E io vorrei essere uno dei vecchi testimoni di questi avvenimenti, di questi fatti, che prima per insegnare a loro a camminare vengo qui in pellegrinaggio, non in una gita, in un pellegrinaggio come quando si va a Redipolia al Sacrare della Patria. E allora con questa memoria, in questa meravigliosa giornata di novembre, a voi giovani mando l'augurio. Leggete, fatevi raccontare, studiate, imparate che c'è sempre da imparare e tramandate, raccontate, anzi fatevi raccontare dei vostri vecchi quali sono state le storie che ha vissuto la nostra gente in questi paesi, in questi luoghi. Siamo qui in un'ansa del piave, il fiume sacro alla patria. Sacro per me sia sacro anche per voi. Grazie.